Che dire, due artisti eccezionali, confermiamo la stima Paolo e un grazie a Ruperto che oltre ad essere un grande artista, c'è un altro pezzo, allora c'è un altro pezzo, lo volete? Vai! Cercami, come quando e dove vuoi, cercami, è più facile che mai, cercami, un soltanto nel bisogno, tu cercami, ho la volontà e l'impegno, rinventami. Se mi vuoi, allora cercavi di più, tornerò, solo se ritorni tu, sono stato invadente, eccessivo lo so, il bagliaccio di sempre, anche quello è l'amore. Però, questa vita ci ha puliti già, troppe quelle verità, che ci sono rimaste dentro. Ti aspetti Io vi farò, in sicurezza che vi danno, gli animoni, farò tracere pure lei, se poi vivrò, di questa quanta ultimità. Per sempre 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 Adesso sai, senza un momento non vivrei E poi non vedi, incendiami, incendiami, non smetterei E poi non vedi, incendiami, non smetterei Grazie a tutti voi, grazie Che roba, che roba Allora grazie Roberto, riprendo il discorso di prima Oltre ad essere un bravo artista Sei anche un amico, quindi ti voglio ringraziare personalmente Certamente, grazie a te, di averci ospitato No, grazie a voi Grazie a tutti Grande Paolo Negliatti, Roberto Pedroni, l'altro zero